Parte oggi la fase iniziale della campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono dei rifiuti rispetto all'ambiente. In cosa consiste? Questa è una prima fase di un progetto più ampio che prevede diverse fasi per cercare di migliorare il servizio di raccolta e di rifiuti e anche migliorare il decoro della città. Questa è una prima fase che noi vogliamo attuare tutti quei mezzi di prevenzione e non di repressione per sensibilizzare la cittadinanza a migliorare la gestione dei rifiuti. Ci sono diverse aree sensibili dove rileviamo un abbandono indiscriminato di questi rifiuti. Noi pensiamo che attraverso la sensibilizzazione i cittadini sicuramente capiranno che non è un atteggiamento propriamente corretto. Il servizio viene garantito perché c'è un numero verde da chiamare, la ditta prenota il ritiro, effettua il ritiro a domicilio, quindi non è necessario abbandonare i rifiuti. L'obiettivo ultimo è anche quello di aumentare la raccolta differenziata che permetterà anche una riduzione delle bollette, che prima dico sempre questo è un deterrente, ma il fine ultimo è quello di migliorare l'impatto ambientale. Inoltre attualmente il servizio di ritiro ha un attimo delle difficoltà perché non siamo muniti di centro di raccolta, questa amministrazione si sta attivando fin da subito per dare alla cittadinanza un centro di raccolta che permetterà una gestione del servizio ancora migliore. Nelle zone che abbiamo individuato più sensibili installeremo anche delle fototrappole, metteremo anche dei cartelli con il divieto di scarico che avviseranno che ci sono le fototrappole, sperando che questo porti al non abbandono dei rifiuti perché sicuramente reprimere e sanzionare un cittadino non rientra nelle nostre prerogative. Grazie. 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 Grazie.